Quando ero piccolo, ogni mattina guardavo fuori dalla finestra e mi dicevo, ogni giorno è diverso. Ma dopo ho capito che qui, in realtà, nulla sarebbe mai cambiato. Volevo fare il giro del mondo e, in effetti, è ciò che ho fatto. Jean? Jean. Non è vero. Sai da quanto non abbiamo più tue notizie? Quattro anni e undici mesi. Sono mesi che ci prendiamo cura di papà, ci occupiamo delle vigne, pensiamo noi a tutto. E ora arriva lui. Di che parli? Che ne sai tu della mia vita? Oh, è vero, non so nulla della tua vita. Sono partito per fuggire da tutto questo. Ma sei tornato? L'amore è come il vino. Ci vuole tempo. Non hai voglia di restare. Vi faccio presente che la priorità adesso è pagare le tasse di successione. 500.000? 500.000? Sì. Questa è la nostra eredità. Nessuno di noi aveva il becco di un quattrino, ma tutti e tre avevamo i problemi che hanno i ricchi. Fa smettere di spruzzare quella roba sulle nostre ghidi, ok? È lavorando la terra e prendendosi cura di essa che si inizia a sentire che ci appartiene. Non vendiamo, soprattutto non a te. Che cosa? Non ho capito bene. Mia! È una battaglia! Ti ho preso? Non ce n'era più! Ehi! Ehi! Ah, che allegria! È un'orgia di frutti, ce ne sono ovunque. Pum, 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 è una festa per le papille. Pum, 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 pum. Ehi! 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 Grazie a tutti